Sala del Catalogna e Grimita per l'incontro organizzato dalle forze di centro-destra sul tema del piano della mobilità turistica. Un'anime il grido di allarme e la consapevolezza della necessità di fare fronte comune. Applausi e pioggia hanno accompagnato la tanto attesa accensione dell'albero di Natale ieri a Portaterra. Piace anche l'allestimento urbano di Tonino Serra. Il programma di MESQMES entra nel vivo. Ampia pagina sportiva con tutti gli appuntamenti del weekend. Spickel derby in serie B tra amatori rugby al Ghero e Capoterra. Ben trovati con l'informazione quotidiana di CatalanTV. Apriamo il telegiornale parlando dell'incontro pubblico che si è svolto giovedì pomeriggio all'Hotel Catalogna organizzato da Forza Italia, riformatori sardi, Energie per l'Italia. Noi con Salvini e Fratelli d'Italia sul tema del piano della mobilità turistica e l'esclusione del porto di Porto Torres, dell'aeroporto di Alghero e dei tanti siti di interesse turistico e naturalistico del territorio sassarese come il parco dell'Asinare, il parco di Porto Conte e la grotta di Nettuno. È stato addirittura necessario cambiare sala per accogliere le tante persone che hanno voluto ascoltare gli interventi moderati dal consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde. Sono intervenuti Pietro Fois, Andrea De Logu, Marco Di Gangi, Gianfranco Langelle, Giorgia Vaccaro. Unanime il grido di allarme, la consapevolezza della necessità di fare fronte comune unitamente alle categorie produttive e sindici del territorio per arrestare il disegno della giunta a Pigliaru del Governo nazionale di deupaperare ulteriormente un territorio sempre più in crisi. Il tutto nel silenzio dei sindaci più rappresentativi del territorio, quelli di Alghero, Sassari e Porto Torres che supinamente subiscono questa situazione, questa l'accusa forte lanciata nell'incontro, il fallimento della rete metropolitana, la riforma della sanità fatta di scapito del nord Sardegna per privilegiare altri territori, le politiche in materia di trasporti che hanno fatto perdere all'aeroporto di Alghero 350 mila passeggeri in un anno, l'esclusione di Porto Torres dalla rappresentanza nell'autorità portuale, sono tutti tasselli che formano un disegno volto al deupaperamento dell'economia del Sassarese, è stato detto nel corso del convegno solo un'azione comune di tutto il territorio hanno ribadito potrà permettere di invertire la rotta per far riprendere al nord ovest Sardo la via dello sviluppo e della crescita economica. E sentiamo allora alcune interviste realizzate poco prima del convegno, iniziamo allora dal consigliere regionale Marco Tede da Marco Di Gangi, presidente di Azione Alghero e vice coordinatore regionale di Energie per l'Italia. Che non c'è il titolo di questo incontro pubblico, potremmo dire però nord ovest che non c'è in questo piano di mobilità turistica? Assolutamente sì, è un'isola nell'isola che non c'è, già la Sardegna ha problemi molto pesanti nei confronti di questa giunta regionale che è del tutto inadeguata, in più la provincia dei Sassari è problematica di per sé, è un'isola nell'isola, tutte le azioni della giunta regionale vanno nella direzione di mortificare questo territorio, occorre una relazione forte e noi ci stiamo attrezzando per farla, è quello che stiamo facendo con questi convegni nei quali discutiamo dei temi, dei problemi dei cittadini della provincia di Sassari, ma proponiamo e offriamo anche soluzioni. Non sembra un caso che Renzi non sia passato da queste parti? No, assolutamente non è un caso, Renzi ha fatto una passerella e peraltro ciò che veramente mi ha avvilito è che questa passerella di Renzi ha visto Pigliaru sgambettare dietro Renzi che non è un capo di governo, il Presidente della Regione non può sgambettare dietro un leader di partito, deve muoversi e deve atteggiarsi con la fierezza di chi rappresenta il popolo sardo e Pigliaru non l'ha fatto. Sono passati alcuni giorni dalla denuncia vostra sull'esclusione di Alghero e Porto Torres dal piano straordinario di mobilità turistica, ad oggi non è cambiato nulla? Non solo non è cambiato nulla, ma approfondendo l'analisi di quello che sta succedendo nel mondo dei trasporti, nel mondo della mobilità e nel mondo degli aeroporti sardi, ci stiamo rendendo conto sempre di più che le dimensioni dell'isolamento e della marginalizzazione del nostro aeroporto stanno assumendo dimensioni preoccupanti. L'occasione di oggi è sicuramente utile per approfondire questo discorso, cercare di stimolare un confronto pubblico sperando che tutti gli attori presenti sul territorio finalmente prendano atto di quello che sta succedendo e si muovano di conseguenza. Noi ci siamo. Sentiamo ora l'esponente di Fratelli d'Italia, Gianfranco Langella e la consigliera comunale dell'Udc, Donatella Marino. Anche Fratelli d'Italia, per questa battaglia comune potremmo definire del centro-destra ma che potremmo definire a politica, perché qua si tratta di parlare del territorio. Certo, Fratelli d'Italia partecipa, ma diciamo che questa è una politica che non deve avere colori, è un passaggio importante, il nostro territorio sta veramente morendo e questo è un segnale che il Ministero da Roma ci ha dato, veramente grave. È un primo passo però, possiamo dire, verso una costruzione di un'alternativa politica anche a questa amministrazione? Un'alternativa politica è l'inizio, come ho detto bene, è un primo passo, siamo aperti a incontrare tutti, siamo aperti a costruire. Bisogna riprendere in mano questo territorio, non solo la città, ma bisogna far capire che è finito il tempo della politica del dire, cosa bisogna fare veramente. Anche l'Udc presente è invitata a partecipare per denunciare l'esclusione di fatto di Alghero Porto Torres dal piano di mobilità turistica. Certo, effettivamente è così, anche perché come titolo l'isola che non c'è parzialmente, perché il nord Sardegna si sta isolando dal resto dell'isola, vediamo i risultati sul nostro aeroporto, il porto di Porto Torres è così importante per quanto riguarda non solo il commercio e il turismo, ma anche per gli studenti, le persone che comunque si devono muovere per problemi anche di salute, che per raggiungere la nostra isola, la nostra Sardegna, la nostra Alghero deve viaggiare per l'intera penisola, quindi uniti più che mai insieme comunque in questa campagna, perché comunque a parer mio non bisogna utilizzare nessuna fascia politica, ecco, insieme per i sardi, insieme per far valere i nostri diritti. Nei giorni scorsi Sogea ha ospitato un incontro promosso dall'assessorato del turismo, artigianato e commercio e dalla Camera di Commercio di Sassari, è rivolto a illustrare le nuove linee strategiche per il settore turistico, l'assessora Argiolas ha fatto il punto sullo stato dell'arte della DMO, Destination Management Organization, strumento introdotto dalla nuova legge sul turismo con lo scopo di coordinare la promozione dell'offerta turistica e di diventare soggetto centrale rispetto all'intero settore, l'obiettivo è quello di arrivare alla costruzione di un'offerta comune che contenga e valorizzi le specificità territoriali di ciascuna realtà, si legge in una nota diffusa da Sogeal, l'assessora ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento della rete aeroportuale della Sardegna, quale elemento fondamentale della struttura DMO, trovare insieme, condivisioni, strategie, verificare congiuntamente prospettive future per la città che sicuramente trovano radici nel passato e nel lavoro che ciascuno di voi ha già fatto, così il sindaco Mario Bruno ha gli ex primi cittadini di Alghero che ha invitato lunedì alle 10 a Palazzo Civico di Piazza del Municipio. Nei giorni scorsi Bruno ha inviato a Salvatore Piccioni, Andrea Fruglio, Salvatore Scognamillo, Enrico Lofredo, Alfonso Iba, Carlo Secchi, Antonio Baldino, Marco Tedde e Stefano Lubrano una lettera in algherese prendendo spunto dalla richiesta inviata da alcuni di loro al Ministro Italiano degli Affari Estili, al Presidente del Governo Spagnolo e alla Commissione Generalitat de Catalunya per la riapertura dell'ufficio di rappresentanza d'Alghero della stessa Generalitat. Sarà questo, scrive Mario Bruno nell'invito, il primo motivo dell'incontro e confronto di opinioni sull'argomento specifico, in quanto intenzione di instaurare con tutti voi un dialogo aperto proprio con chi, prima di me, da sindaco, ha ricoperto questo oneroso incarico. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Nei giorni scorsi il questore di Sassari, Maurizio Ficarra, ha disposto l'avvicendamento dei funzionali preposti alla dirigenza di vari uffici di questura e nei commissariati distaccati. In particolare il vicequestore aggiunto, dottor Walter Cossu, ha lasciato la direzione del commissariato di Alghero per assumere l'incarico di dirigente dell'ufficio del personale e dell'ufficio tecnico-logistico provinciale della questura. A seguito di ciò il nuovo dirigente del commissariato di Alghero è stata nominata il vicequestore aggiunto, la dottoressa Claudia Maria Gallo, che ha lasciato la direzione dell'ufficio di frontiera area di Alghero Fertilia. Il nuovo dirigente di quest'ultimo ufficio, il vicequestore aggiunto Gianluca Pallaoro, che ha lasciato la questura dopo diversi anni trascorsi alla dirigenza dell'ufficio tecnico-logistico provinciale e precedentemente alla Digos. E nel tardo pomeriggio di ieri è stato acceso l'albero a Portaterra che apre ufficialmente il Natale ad Alghero. Tante le persone che non sono volute mancare all'appuntamento. E da ieri fino al 6 gennaio gli Elfi di Babbo Natale invaderanno il centro cittadino proponendo tanti pomeriggi di sano divertimento per bambini. I dettagli nel servizio. E luce fu. Si è illuminato alle 18 in punto di ieri l'albero di piazza Portaterra costituito da lanterne in tela e decorate con diversi quadrati di tessuto colorato. Ed è un raffreddello rosso, simbolo della cittadina catalana. Tanti cittadini che non sono voluti mancare all'attesa appuntamento, sfidando anche la pioggia, che però non è riuscita a rovinare l'accensione dell'albero che ha aperto ufficialmente il Natale ad Alghero. È stata la banda musicale da Lergi a condurre i cittadini attraverso un percorso di luminarie e lanterne di stoffa colorate lungo le vie del centro storico. 400 quelle totali che saranno installate nel centro storico di Alghero. Le prime sono state sistemate in piazza civica e da subito hanno catturato l'attenzione di cittadini e primi visitatori. 8.000 pezzi di stoffe, oltre 700 metri in totale, che costituiscono il decoro delle lanterne. Stoffe donate dallo stilista algerese Antonio Marras e sapientemente utilizzate dal flower designer Tonino Serra, tra i migliori 20 sì al mondo e tra i migliori tre in Italia, affiancato nel lavoro dal professor Giorgio Donini, architetto della comunicazione e da 200 studenti del liceo artistico Costantino nell'ambito del programma di alternanza scuola lavoro. Giovedì scorso invece allo Qualtè è stato inaugurato e benedetto dal vescovo Mauro Maria Morfino il presepe meccanico allestito sempre da Tonino Serra e da ieri fino al 6 gennaio gli Elfi di Babbo Natale invaderanno il centro della città proponendo tanti pomeriggi di sano divertimento per i bambini. Dopo il grande successo della prima edizione, quest'anno l'Ufficio Politiche Familiari del Comune, l'Associazione Alghenegra e il Centro Commerciale Naturale al Centro Storico, sostenute dall'amministrazione comunale di Alghero e dalla Fondazione Alghero, hanno ampliato l'offerta del villaggio con l'obiettivo di proporre alle famiglie e tanti momenti magici inseriti nel calendario degli eventi mes-quem-mes del Cadean 2017-2018. Proprio ieri pomeriggio è stata inaugurata la bottega degli Elfi, il laboratorio in cui gli abitanti di Babbo Natale realizzato gli ambiti giocatori, sistemano la posse e si rilassano con momenti di gioco e spettacolo. Saranno 18 i giorni di animazioni, spettacoli, laboratori e incontri magici. Il programma completo è consuntabile online sul sito www.algheroturismo.eu. Babbo Natale nel frattempo giungerà in città passando per la borgata di Fertilia. Questo pomeriggio e domani sarà ospite del comitato di festeggiamento e incontrerà i bambini intrattenendosi con loro. A partire dal 14 dicembre invece e per tutto il periodo natalizio, Babbo Natale prenderà casa presso la Torre Sulis. Tramite ticket sarà possibile anche visitare la casa di Babbo Natale allestita da Guido Beltrami al primo piano della stessa torre. È possibile acquistare i biglietti presso l'altelier degli Elfi in via Carlo Alberto vicino al liceo classico. Prosegue la rassegna corale Ancors Coraz Dautun. Quest'oggi si terrà il terzo concerto itinerante del coro polifonico algerese diretto dal maestro Ugo Spanu per le vie nelle piazze del centro storico cittadino. Si parte da piazza Civica passando per la piazza del teatro per arrivare a piazza Pino Piras. In caso di maltempo la manifestazione si sposterà nella magnifica cornice della cattedrale di Santa Maria. L'intento, fanno sapere, è quello di creare diversi flash mobile all'interno del centro storico che possono coinvolgere un grande pubblico. David Ruda torna a far parlare di sé dopo la partecipazione al programma Ride the Voice of Italy. Ora è in gara per l'Eurovision. Con lui abbiamo parlato di questo ma anche di tanto altro e soprattutto dei progetti futuri. Con te in questa intervista parliamo della tua attività, dei tuoi progetti futuri. Partiamo però dalla partecipazione a un concorso per l'Eurovision. Spiegaci di cosa si tratta. Sono stato scelto da Repubblica San Marino con il mio brano simili e diversi. Quindi ho passato la selezione e ora sono tre candidati in tutto il mondo. Ci sono diversi cantanti comunque sia in tutto il mondo. Quindi è partita una votazione sul web e speriamo bene. Allora spieghiamo ai nostri amici che ci stanno guardando, ascoltando da casa, cosa bisogna fare per votarti. Sì è semplice. Basta entrare nella mia pagina Facebook, cliccare sul link dove troverete il mio video e poi cliccare sull'emotion a forma di cuore che sarebbe il voto per il concorso. Abbiamo parlato di questo concorso, di questa importante opportunità. Parliamo dei tuoi progetti futuri. Cosa c'è in Cantiere? Allora in Cantiere in questo momento sto lavorando per il mio primo album da solista che uscirà per la primavera. All'interno del disco ci saranno due collaborazioni importanti. Una che già conoscete con Don Bacchio, ho avuto l'onore di duetare con lui con il celebre brano L'Immensità. L'altra collaborazione è con Nicola Niteri di Tazienda, un brano scritto da Gino Marielli di Tazienda e Gabriele Oggiano. Quindi sarà un disco a livello musicale molto ampio. Dave Ruda, dalla partecipazione a The Voice ad oggi, cosa è cambiato? Guarda, non posso negarti che con cui sia The Voice è un'ottima vetrina, quindi ti dà risalto per quello che fai e ti dà in parte più possibilità, però ovviamente sempre testa bassa e mirare per i propri obiettivi. Allora adesso lasciamo a te il microfono. Cosa ci canterai? Vi farò ascoltare con il maestro Daniele Barbato e Iron Sky di Paolo Nutini. Dave Ruda, l'abbiamo sentito, adesso proseguiamo perché questa sera all'Arcafè è il primo appuntamento della serata Badabing, ovvero la musica più bella degli anni 50, mixata dalle due donne DJ versatili per eccellenza. Per la prima volta ad Alghero, Music is my boyfriend, una sorta di revival di qualità. A Torino esiste ed è un grande successo, da anni i avanzi di balera, a cui nasce Badabing. Ma il concetto è lo stesso, divertirsi e dimenticare per qualche ora le secature quotidiane. Music is my boyfriend, ospite fisso di queste serate, un progetto di Selecta che nasce nel 2007 nei suborghi cagliaritani, per poi aver trovato spazio in città più grandi come Torino, Milano, Roma. Si tratta di due DJ donne, Sard, ovvero Claudia Spettinè e Manuela Epol, la cui esperienza musicale è stata caratterizzata da influenze elettroniche e Afrobeat, fino ad arrivare alla Tropical House, Electro, Trap. Hanno collaborato con i produttori caglianitani, Signora Franca, Rogalle, hanno partecipato a numerosi festival come Du Baulà Du Fest, Sulla Terra Leggeri, Signal Festival, Quiet Festival, il Pagliaio Festival a Roma e tanti altri. Tra le varie collaborazioni lavorative sono state sponsor per la Nike Italia all'evento We Won't The Night a Milano. I loro set non distano molto da quanto proposto dall'altra paladina, Sarda, dell'Electro Elisa B, anche se per Badabing si spazierà tra tutta la musica conosciuta o meno dagli ultimi decenni, dal rock alla dance, dalla canzone italiana al punk fino all'elettronica a reghi. L'inizio della serata è fissata per le ore 23 circa, l'ingresso è gratuito, la direzione artistica organizzata è a cura dell'associazione Primogenea e Al Caffè. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Ultima parte come sempre dedicata allo sport, iniziamo con il calcio e vediamo le partite in programma di prima e seconda categoria. Decima giornata nel gironelle di seconda categoria e c'è il testa a coda tra Minerva e Trezeliges. La capolista del campionato va a Villanova-Monteleone a far visita al fanalino di coda. Ben 25 i punti di differenza tra le due squadre con il Minerva a fermo a quota 2 e la formazione allenata ad Angelo Bardini che invece sinora le ha vinte tutte. Al terzo posto a quota 20 c'è l'Audax che dopo aver fermato sul pari la vicecapolista Campanedda punta a fare bottino pieno sul campo del Pagi dietro di sette lunghezze a quota 13 così come il 1945 Alghero che invece domani al Mariotti ospiterà la Villier che si trova nei bassi fondi con appena 6 punti conquistati. A 5 troviamo invece il Maristella costretto ancora a giocare a Maria Pia. Domani in Nero Verdi ospiteranno il Padria e proveranno a conquistare la seconda vittoria stagionale. Passando alla prima categoria girone D spicca il match tra Olmedo e Ittiri. Le due squadre sono divise da appena un punto. 22 la formazione Ittirese a 21 la squadra di Luca Marcomini che cerca dunque il sorpasso. È la prima partita di un tritico di ferro che vedrà poi l'Olmedo affrontare il tiesi quindi l'attuale capolista Pozzo Maggiore dopo la sosta per le festività. E di Biancoverdi l'obiettivo è fare più punti possibili per restare nella parte alta della classifica. Domani pomeriggio in programma l'atteso derby della palla ovale tra l'amatori, il rugby Alghero e Capoterra. L'appuntamento è per le 14.30 al campo di Maria Pia. Una partita importante sentita tra le due squadre con il 15 di Anversa che grazie alla vittoria su Piacenza della scorsa settimana è salito al secondo posto scavalcando Biele andando a meno uno dalla nuova capolista Monferrato. Gli algheresi arrivano da questa gara con sei vittorie e una sola sconfitta. Il Capoterra invece si trova in centro classifica con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte a quota 16. Quella di domenica rappresenta la partita più importante del campionato visto quanto è difficile sentita dai giocatori tifosi e naturalmente dalla società dichiarato uno dei vicepresidenti Alessandro Presapane. La rivalità sportiva è forte e speriamo di prenderci tutti i punti in palio. Ha poi aggiunto non nascondendo l'obiettivo dell'amatori quello del ritorno in Serie A. Vediamo anche gli appuntamenti di basket del weekend a iniziare dalla Serie A 2 femminile con la Mercedes che scenderà in campo questo pomeriggio alle 16 al Palacorbia contro la Cestistica Savonese. Sebbene si tratti solo dell'undicesima giornata, una partita importante in chiave salvezza considerando che la squadra bianca-azzurra è ultima con due punti mentre la formazione Ligure ha quota 6. Passando alla Serie D maschile trasferta dura per la Coral 2016 che questa sera alle 20 sarà di scena a Olbia sul campo della capolista Santa Croce. Nella gara di andata giocata dal Ghero la formazione galurese vince 69-53. Adesso la Coral cerca il riscatto forte dei tre successi consecutivi. Non sarà semplice contro la prima della classe che la scorsa settimana ha perso l'imbattibilità. Giocherà domani invece alle 20 al Palamanchia la Gabetti Palacanestralghiero impegnata nell'ottava giornata di promozione maschile. L'avversaria di turno è Sosa Ranzos che ha gli stessi punti della squadra allenata da coach Cardone 6. L'obiettivo è riscattare il brutto K.O. Casalingo contro la Dinamo 2000. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.